La guerra in Jin, capitolo 1, antefatto 1, la situazione in Giappone Intanto bisogna fare una notte sulle date. Il calendario lunare viene usato in Cina, Corea e Giappone fino alla fine del XIX secolo. Nei vecchi resoconti non viene fatto alcun tentativo di conciliare i due sistemi di datazione e, ad esempio, il tredicesimo giorno del quarto mese viene semplicemente riportato come il 13 aprile, con grossi problemi di accuratezza, dato che il tredicesimo giorno del quarto mese del 1592 corrisponde al 23 maggio del calendario gregoriano. Dove è stato possibile, le date sono state espresse seguendo il calendario occidentale usando il calendario sincronico Cina-Paesi Occidentali 1341-1661 di Kate Hazelton, edito nel 1985, oppure usando le tavole cronologiche giapponesi dal 601 al 1862 di Paul Sushiashi, edito nel 1952. La situazione è complicata anche quando si fa riferimento agli anni, dato che già solo in Corea venivano usati tre distinti modi durante la dinastia Joseon. Uno era l'anno di regno dell'imperatore cinese, due, il secondo era l'anno di regno del re coreano, e il terzo era il nome dell'anno basato su una combinazione dell'oddico cinese con i cinque elementi taoisti che formano un ciclo di 60 anni. Il 1592, ad esempio, è noto rispettivamente come Wanli 20, Seonjong 25 e anno in Jin. Perciò gli anni verranno indicati per maggiore chiarezza usando la designazione occidentale. Passiamo adesso al racconto. Capitolo 1 Antefatto 1. Il Giappone alla conquista del mondo. Il 23 settembre 1543 una grande giunca cinese giunse a Tanegashima, una piccola isola circa 40 chilometri a sud del Kyushu, con a bordo circa un centinaio di uomini, in apparenza cinesi, tra i quali però alcuni avevano strani grossi nasi. Il loro capo disse di chiamarsi Wu Feng, ma in realtà era il noto pirata cinese Wang Chi. Egli non parlava giapponese, né gli uomini che lo accossero parlavano cinese, ma riuscì a far capire che potevano comunicare tramite ideogrammi scritti. Veneto al fine è un capovillaggio istruito della zona di nome Oribe e i due uomini conversarono scrivendo con un bastoncino sulla sabbia. Tra le domande, Oribe chiese a Wu Feng chi fossero quegli strani uomini che erano con lui. Wu Feng rispose che erano dei mercanti barbari del sud ovest, di fatto erano portoghesi, giunti fin lì allo scopo di commerciare. Oribe dunque suggerì che era meglio condurli a Akaogi, la capitale dell'isola, residenza anche di Lord Tokitaka, signore di Tanegashima. La nave arrivò a Dakaogi il 27 settembre 1543. Durante il loro soggiorno lì, i portoghesi fecero conoscere a Tokitaka un curioso artefatto, il moschetto Amicia o Archibujo. Lord Tokitaka ne rimase molto impressionato e convince i portoghesi a venderli nei due. e a dargli alcune lezioni di tiro. Ordinò anche a uno dei suoi servitori di imparare dai barbari come preparare la miscela di polvere necessaria a suo uso. Dopo la pretenza dei portoghesi, Lord Tokitaka ordinò ai suoi fabbri di replicare le armi che avevano comprato, ma questi non riuscivano a trovare un modo di chiudere adeguatamente il fondo della canna. Il problema venne risolto nel 1544, quando giunse a Tanegashima una seconda nave, a bordo dal quale vi era un fabbro, a cui gli armaioli del Lord Tokitaka si rivolsero per avere consigli. Una storia vuole che uno di loro sia arrivato addirittura a offrirgli sua figlia, in cambio delle sue conoscenze. Nel giro di un anno, gli artigiani di Tanegashima riuscirono a produrre oltre 20 copie funzionanti degli originali portoghesi, e il Lord Tokitaka fece addestrare alcune dei suoi servitori, fino a farle diventare tiratori provetti. Tanegashima Tokitaka, 1528-1569, figlio di Sato Toki, era un daimyo vassallo di Shimazo Yoshisa, 1533-1611. Il suo capo armaiolo si chiamava Yaita Kimbei Kiyosada. I moschetti prodotti a Tanegashima furono impiegati per la prima volta nella sedia di Kajiki nel 1549, da Ijuin Tadahaki, vassallo dell'Hishimazo. Shimazo Yoshisa, 1533-1611, riuscì, assieme ai suoi tre fratelli, a portare sotto il suo controllo tutto il Kyushu nel 1184. In quello stesso anno, Lyotomo e Ryuzoji chiesero aiuto a Toyotomi dei Yoshi, che non potendo intervenire immediatamente, mandò un messaggio a Shimazo, nel quale gli chiedeva di fare la pace con Otomo, ma senza essere ascoltato. Nel 1585 conquistò anche il castello degli Otomo e questi si ricarono ad Osaka a chiedere aiuto diretto ai dei Yoshi, che nel 1586 invase il Kyushu, sconfiggendo le forze degli Shimazo, fino a mettere sotto sedio il castello di Kagoshima. Venne quindi stipulata una pace e agli Shimazo rimasero i territori di Satsuma e Uzumi. Mentre il resto dei territori conquistati da Yoshisa, venne affidato a Kato Kijumasa, Konishi Yukinaga e Kuroda Nagamasa. Il clan Mori ottenne dei territori nel nord di Kyushu e a Kobayakawa venne dato il Chikuzin. Wu Feng, alias Wangzi, morto nel 1560, era stato inizialmente un mercante di sale della provincia della contella di She, nello Huizu, moderna Wangshan, Hanui. Ma poi si mise a fare il contrabbandiere, aggirando le restrittive regole commerciali dei Ming e commerciando con i portoghesi. Nel 1543 portò i portoghesi a Tenegashima. Nel 1544 si unì al consorzio pirata dei fratelli Kiju, diventando in seguito persino ben voluto dalla popolazione di Shuangyu, dove aveva la sua base. Nel 1548 venne attaccato dalla flotta Ming guidata dal generale Zhu Wang durante una notte di tempesta, ma riuscì a fuggire. In seguito riuscì ad allargare ancora il suo consorzio pirata e dopo alti e bassi con le autorità Ming, istituì la sua base sulle isole Goto e Irado nel 1553, dove si dicesse avesse 2000 uomini e centinaia di navi, stabilendo rapporti con gli Otomo e gli Ouchi. Alla fine venne ingannato dagli emissari della corte cinese, dietro la promessa di lasciarlo cominciare liberamente e di essere perdonato, e condotto in lettiga fino al campo di esecuzione. Il 22 gennaio 1560 morirà e lascerà un fermaglio per capelli al figlio come ricordo. Sua moglie e i suoi figli saranno venduti come schiavi. Dunque, i moschetti introdotti dai mercanti portughesi nel 1543 non erano le prime armi da fuoco a giungere su quelle coste. Diverse armi a base di polvere da sparo erano già state importate dalla Cina nei due secoli precedenti, tra cui le prime bombe e addirittura dei cannoni, e persino delle pistole, ma nessuna di queste armi cinesi furono mai impiegate in modo esteso nell'arte militana giapponese, perché troppo rudimentali, complicate e difettose per rivaleggiare con arco e frecce, spade e lance. Nel giro di pochi anni, la tecnologia dei moschetti portoghesi, chiamati Tanegashima, si diffuse nel Kyushu, dove alcuni armaioli specializzati aprirono delle proprie scuole e iniziarono a formare apprendisti, che a loro volta si mossero altrove ad aprire bottega, costruendo moschetti nello stile distintivo dei propri maestri, ovvero con lo stesso design, lo stesso peso, lo stesso calibro, e in tal modo l'arte della costruzione dei fucili passò dal Kyushu all'Honshu, dove a Sakai, vicino a Osaka, e a Kunimoto, appena a sud dell'odierno Tokyo, divennero i maggiori centri di produzione. Nel 1560, ormai, in Giappone, si producevano moschetti nell'ordine di diverse migliaia, ed erano di buona qualità tanto quanto quelli prodotti in Europa, con l'importante vantaggio di una maggiore standardizzazione, di fatto assente nel vecchio continente. È vero che le diverse scuole producevano armi di diverso calibro, e non era possibile equipaggiare un intero esercito con un solo tipo di fucile, ma era possibile adottare gruppi più piccoli di fucili dello stesso tipo e calibro, rendendoli più utili ed efficaci nazioni. Il primo moschetto portoghese giunse in Giappone durante l'epoca Sengoku, il periodo degli stati combattenti, circa 17 secoli dopo quello che aveva unificato la Cina. Tale periodo di circa 130 anni va circa dal 1460 al 1590. L'inizio dell'epoca Sengoku fu dovuto alla mancanza di un'autorità centrale dotata di sufficiente forza militare. Tale problema ha le sue origini del fatto di mancanza di potere effettivo nelle mani dell'imperatore, che diede origine a dinastie di dittatori militari detti shogun, che inizialmente governavano effettivamente sotto l'autorità dell'imperatore, ma che dal XIII secolo divennero i veri detentori del potere. Nel 1333 lo shogunato di Kamakura, una cittadina nelle vicinanze dell'attuale Tokyo, indebolito dalla minaccia mongola delle armate di Kublai Khan, lasciò il posto alla dinastia degli shogun a Shikaga, che invece posò il loro quartiere generale a Kyoto, la capitale imperiale. Tuttavia, ben presto anche lo shogunato a Shikaga iniziò a declinare, tanto che nel XVI secolo non aveva più la forza militare o economica per controllare effettivamente il paese. Il risultato fu uno stato di guerra diffuso su tutto il territorio, tra i veri signori che cercavano di guadagnare terre e potere, o di proteggere i loro territori. I moschetti furono presto impiegati dai signori della guerra, dato che non erano costosi da produrre, non necessitavano di buone fricce, ma di semplici palle di piombo, e possedevano un raggio d'azione superiore a quelle degli archi tradizionali. Mediamente si stimavano 500 metri, conto 380. Oltre a una maggiore capacità di penetrare le armature tradizionali e alla sua maggiore facilità d'uso. Di contro avevano una minore frequenza di tiro, dato che un fuciliere addestrato necessitava di circa un minuto per caricare il moschetto e fare fuoco, tempo che sarà in seguito ridotto da cariche di polvere preparate in precedenza. Un buon arciere poteva scagliare almeno sei frecce ben mirate in un minuto, ma un buon arciere richiedeva anni di addestramento, una grande forza muscolare e costosi archi di buona fattura. Mi sembra il caso di fare alcune precisazioni. C'è da dire che a 150 metri di distanza, a parte nel caso di fucilieri abbastanza abili, si era parecchio sicuro, data la scarsa precisione delle armi, che non avevano né la potenza né il merino, né la canna rigata delle armi che si svilupparono in seguito. Tanto è vero che ancora durante le guerre napoleoniche in Europa, le truppe avanzavano al passo fino a tale distanza prima di aprire il fuoco, e anche a quel punto il numero dei colpi andati a segno era davvero molto basso. Stando anche a quanto riporta il noto professor Balbero, durante le guerre napoleoniche, ovvero dal 1803 al 1815, le truppe iniziavano a sparare quando si trovavano a circa 100 metri di distanza, dato che a 200 metri i colpi sarebbero stati inefficaci in caso di carabine senza rigatura. E una volta iniziato il fuoco, il tasso dei proiettili a segno era di 1 su 459, il che equivaleva a ferire o uccidere un soldato su 10 nel giro di 10 minuti di salve, considerando 3 salve al minuto. Si tratta di 30 salve di fanteria consecutive. Dubito che nel 1590, ovvero 200 anni prima, in Giappone i soldati potessero fare molto meglio. Oda Nobunaga, 1534-1582, morto a 48 anni a causa del tradimento di Akechi Mitsuide, fu uno dei primi a impiegare massicciamente i moschetti tra i suoi Ashigaru, la fanteria di basso rango. E se nel 1550 erano dotati di solo 500 moschetti, nel 1585 il numero era salito a ben 10.000, grazie alla conquista dei due luoghi di maggiore produzione di armi da fuoco sull'isola di Honshu, ovvero Sakai nel 1569 e Kunimoto nel 1570. E tale sua abbondanza di fuoco fu determinante nella battaglia di Nagashinov del 1575, dove circa 3.000 fucilieri di Oda falciarono l'armata di Takeda Katsuyori, da dietro una protezione di palizzate di bambù. L'ascesa di Toyotomi de Yoshi, 1537-1598, morto a 61 anni per cause naturali, esemplifica il congetto di Geku Kugi, ovvero l'inferiore che sottomette il superiore. Figlio di un semplice Ashigaru divenne l'uomo più potente del Giappone, unificatore della nazione e comandante dell'esercito più potente dell'Asia. Hideyoshi nacque nel villaggio di Nakamura, nel feudo di Owari che apparteneva al clan Oda e fu chiamato Iyoshi Maru perché sua madre aveva pregato le divinità del santuario Iyoshi prima della sua nascita. Al tempo della nascita di Hideyoshi vi era una rete di santuari diffusi in buona parte del Giappone che faceva riferimento al cosiddetto Iyoshi Taisha, chiamato anche Iei Taisha, che onorava la divinità detta Sanno Shinko o Sanno Gongen, che amalgamava credenze Shinto e buddiste e comprendeva nella sua figura aspetti delle divinità Okuninushi e Omomonushi del monte Miwa, il cui animale messaggero era dalla scimmia e che dopo la fondazione del Ryakuji sul monte Iei venne identificato come una manifestazione del Buddha Sakyamuni dal buddismo esoterico Tendai. Nel 1571 i 21 templi appartenenti al culto di Sanno Shinko furono bruciati dall'assedio di Oda Nobunaga al monte Iei ma vennero ricostruiti da Toyotomi de Yoshi tra il 1586 e il 1597 l'anno precedente alla sua morte. Salendo la gerarchia sociale, Hideyoshi ha cercato di patinare la sua discendenza e nascondere le sue umili origini, perciò restano poche notizie sulla sua vera storia. Sembra che il suo padre si chiamasse Iemon e fosse appunto un ashigaru del piccolo esercito di Oda Nobuide, il padre di Oda Nobunaga, finché una ferita in battaglia non lo costrinse a ritirarsi. Si sposò ed ebbe due figli. Hideyoshi è una figlia di nome Tomo, morendo poco dopo, nel 1543. Sua madre, il cui nome non ci è giunto, si risposò con un altro ashigaru delle truppe Oda, chiamato Chikuami. Da tale matrimonio nacquero altri due figli, una femmina e un maschio. Hideyoshi entrò allo servizio delle truppe degli Oda nel 1558, a 21 anni, allora ai comandi del giovane Oda Nobunaga, 24 anni. Il padre di Nobunaga, Nobuide, nato nel 1510, era morto nel 1551, a 31 anni. Sembra che Hideyoshi fosse alto circa un metro e cinquantacinque e pesasse circa cinquanta chili e che non avesse dei bei lineamenti, tanto che è noto che Oda Nobunaga lo chiamava scimmia o topo pelato. Eppure doveva possedere astuzia, un'intelligenza sorprendente, un coraggio incrollabile e un tolento per l'organizzazione e la leadership che nello spazio dei soli 12 anni lo avrebbero portato dalla posizione più bassa dell'esercito fino al comando dei 3000 uomini come uno dei maggiori vassali di Nobunaga. È noto che essere a servizio di Oda Nobunaga non era facile, dato che aveva un temperamento volubile ed era rude e offensivo con i suoi vassalli, fino a tormentarli senza pietà. Sembra che una volta Oda Nobunaga, ubriaco, abbia usato la testa di Akeshi Mitsuide come un tamburo. In un famoso episodio invece uccise i fratelli del clan Atano, difensori del castello di Yakami, provincia di Tamba, che si erano da regati da lui dietro uno scambio di ostaggi con la madre o la zia di Akeshi Mitsuide che furono uccise per rappresaglia. Sebbene tale episodio, molto radicato nella tradizione e citato ovunque, sia stato messo in dubbio recentemente da molti studiosi. Sembra che De Yoshi abbia preso dal suo padrone il gusto per il teatro Nobunaga, per la contemplazione dei ciliegi in fiore, per la poesia e per l'arte del te. In seguito ricorderai con emozione, nelle sue parole, in grande onore fattoli da Nobunaga nel consentirgli di tenere una cerimonia del te per lui. Per quanto riguarda l'arte militare, di sicuro ha preso da Nobunaga il valore degli Ashigaru e dell'uso dei moschetti, e dell'importanza di avere un esercito rapido negli spostamenti e nel prendere decisioni in modo tempestivo, oltre al fatto di cercare modi alternativi di ottenere la vittoria, come nel 1582, quando costruì una diga di tre chilometri per deviare un fiume e così allagare il castello di Takamatsu, tenuto dalle truppe del clan Mori. Nel 1502, poche settimane prima di essere ucciso, Oda Nobunaga invitò Tokugawa Iyasu a un banchetto al suo castello di Azuchi, e affidò ad Akechi Mitsuhide il compito di fare i necessari preparativi, per poi spedirlo al citato assedio di Takamatsu in aiuto a Toyotomi di Yoshi. Akechi, scacciato dal banchetto preparato a sue stesse spese, radunò le sue truppe per apparentemente obbedire agli ordini, ma all'alba del 21 giugno 1572 rientò a Kyoto e assaltò il tempio Onnoji, dove risiedeva Nobunaga, che dopo un combattimento disperato, si uccise, commettendo seppuku, e il cui corpo finì in cenere dell'incendio da lui ordinato. Akechi si diresse dunque in direzione di Azuchi, la capitale creata da Oda Nobunaga, dove si era ritirato il figlio di Nobunaga, Nobutata, 1557-1502, morte a 25 anni, che si suicidò a sua volta. Hideyoshi venne a sapere della cosa il giorno dopo, quando i suoi soldati intercettarono un messaggero di Akechi inviato a Clamori, e dopo aver concluso una rapida tregua, il 23 giugno iniziò la sua marcia verso Kyoto. In meno di una settimana arrivò con una forza di 20.000 uomini al confronto con le truppe di Akechi, circa 10.000 soldati, nelle vicinanze di Yamazaki, ai piedi del monte Temozan, e lo scontro ebbe luogo il 2 luglio. 11 giorni dopo la morte di Oda Nobunaga. Le forze di Akechi Mitsuhide arrivarono ancora al riparo delle tenebre, e sotto una pesante pioggia, ed egli mandò fucilieri e daceri a prendere posto sulle pernice del Temozan, che però erano già state occupate dai Hideyoshi. Quando all'alba le armate si scontrirono, quella di Akechi ebbe la peggio nel giro di due ore, e durante la fuga Akechi Mitsuhide stesso venne ucciso da un gruppo di contadini, che consegnò il suo corpo a Hideyoshi, corpo che venne bruciato sul suolo dell'Onnoji per placare lo spirito di Oda Nobunaga. La battaglia di Yamazaki segnò il passaggio dell'eredine del potere da Oda Nobunaga a Toyotomi Hideyoshi e cambiò il corso della storia del paese e forse di tutta l'Asia orientale. Ancora oggi, il termine Temozan in giapponese indica una vittoria decisiva, militare o politica, che chiude una importante questione per sempre. Nonostante la sua impeccabile lealtà verso Nobunaga finché fu in vita, Hideyoshi, a sua differenza, non gestò mai i suoi uomini in battaglia se la vittoria poteva essere conseguita in un'altra maniera, con l'astuzia, l'inganno, la pazienza o le trattative. A differenza del suo mentore, egli dimostrò la volontà di dimenticare il passato e lasciò i vari Daimyo al loro posto, fin tanto che questi riconoscevano la sua autorità. Come scrisse a Date Masamune «Non frugo nel passato di coloro che mi si arrendono. Questa è la via del cielo e io seguo la stessa regola». I Daimyo rivali avevano ora quindi una scelta, ovvero scontrarsi con l'informidabile esercito di Hideyoshi e rischiare di perdere tutto, oppure giurargli fedeltà e mantenere le proprie terre e la propria posizione. Certo, vi erano altri obblighi, come quello di pagare le tasse, con una mappatura apta a determinare l'esatto valore dei campi in termini di quantità di coco di riso che potevano produrre annualmente. Ricordo che un coco, la quantità di riso che si stimava sufficiente a nutrire un uomo per un intero anno, equivale a circa 180 litri o 150 kg di riso. Inoltre, dovevano essere mandati dalle truppe per contribuire all'unificazione del paese. Alcuni familiari dovevano essere mandati a Kyoto come ostaggi, una pratica molto comune in quei tempi. Certo, erano cariche onerosi, ma mai quanto una guerra. Inoltre, Hideyoshi li ricambiava con generosità, assegnando ai Daimyo che partecipavano alle sue campagne maggiori terre, maggiori entrate e doni occasionali in oro e argento oppure oggetti preziosi. Negli anni seguenti, Hideyoshi sottomise lo Shikoku in Kyushu, schiacciò il recalcitrante Ojo Ujimasa nell'assedio di Odawara del 1590 e trasferì Tokugawa Ieyasu dalle sue province di origine alla pienura del canto, consigliandogli di fare di Edo la sua capitale. Hideyoshi nel frattempo cerca di ottenere una patente di nobiltà, cercando di farsi adottare dalla famiglia Fujiwara senza successo, a causa del devieto del patriarca dei Kujo, finché l'imperatore stesso gli dede un nuovo cognome, ovvero quello di Toyotomi, cioè generoso ministro. Gli serviva anche un titolo, ma non potendo diventare Shogun, titolo riservato ai discendenti del clan Minamoto, nel 1585 dovette ripiegare su quello di Kampaku, che si può definire come capo consigliere di un imperatore nell'età adulta, ma di fatto agiva come un reggente. Nel gennaio 1592 lasciò il titolo di Kampaku a sua nipote ed erede disegnato, Toyotomi Hidetsugo, 1568-1595, morte a 27 anni e in questo momento a 24 anni, e Toyotomi assunse invece il titolo di Taiko, un vero reggente imperiale ritirato. Hideyoshi si vede anche da fare per raffinare le sue abilità nella cerimonia del tè, nell'arte e nella poesia renga e nel teatro no, commissionando anche opere come la sconfitta di Akechi e la sconfitta degli Ojo, che celebravano le sue vittorie. Perciò nel 1591 Toyotomi de Yoshi è il signore supremo del Giappone, al quale obbedisce anche l'imperatore Goyo Zai, 1562-1617, in carica dal 1586 al 1611, ora ha 19 anni ed è sul trono da 4. Eppure, tutto ciò non bastava a Hideyoshi, che fin dal 1585 iniziò a esprimere il desiderio di conquistare la Cina dopo aver unificato il Giappone, come viene espresso anche per iscritto ad un suo assallo. Nel 1586, il jesuita Louis Frouin appuntava in una conversazione che Hideyoshi ha espresso il desiderio di affidare la gestione del paese al fratello Idenaga, 1540-1591, precedentemente si chiamava Ashiba Kuchiro, in modo da potersi concentrare personalmente sulla conquista di Corea e Cina. Louis Frouin, 1532-7 luglio 1597, nato a Lisbona e ben introdotto alla corte portoghese nel 1548, a 16 anni, si unì ai gesuiti e raggiunse Goa in India per studiare al Collegio di San Paolo, divenendo prete e confessore nel 1561, a 29 anni. Nel 1562 partì per il Giappone con Giovanni Battista de Monte e dopo mesi a Macau raggiunse il Giappone, arrivando a Kyoto nel 1563 e facendo amicizie con Ashikaga Yoshiteru, 1536-1565, morte a 29 anni, all'epoca aveva 27 anni. Ashikaga Yoshiteru, in quel momento, era sciogo anche se privo di vero potere e nel 1569 Louis Frouin connebbe Oda Nobunaga, che all'epoca aveva 35 anni, lavorando ad alcuni dei suoi scritti, proprio nel castello di Gifu. Nel 1587, quando si imbarcò nella sua campagna del Kyushu, Hideyoshi parlò di farsi strada verso la Corea, la Cina e persino l'India, dopo che avesse tenuto stradalmente il Giappone in pugno. In una lettera a sua moglie, One, scritta poco dopo l'invasione di Kyushu, scrisse, «Ho mandato delle navi a portare ordini che la Corea serve tra un imperiale del Giappone. Se dovessero mancare di obbedire, il prossimo anno li punirò. Anche la Cina finirà in mano mia. Durante la mia vita la comanderò». Perciò Hideyoshi voleva conquistare l'Asia? Di certo, il prevenire disordini interne era uno dei suoi veri obiettivi. Nel 1591, Hideyoshi aveva unificato il paese in tre modi. Uno, aveva portato tutti i Daimio sotto il suo controllo, con la forza, se necessario. Due, aveva impegnato l'intero paese nel grande traguardo della riunificazione. Tre, aveva reso obbediente i suoi vassalli con la prospettiva dei laute ricompense grazie alle nuove conquiste. Ma ora non vi erano più nuove possibili ricompense ed era stata raggiunta l'unità nazionale e i Daimio rimasti inattivi non avrebbero iniziato a complottare e a formare alleanze segrete per riprendersi il potere che avevano perduto. Forse Hideyoshi pensava che estendere le sue conquiste oltre il mare fosse una risposta logica. Avrebbe rimpiazzato il traguardo dell'unificazione nazionale con quella del dominio dell'Asia, tenendo i Daimio impegnati al suo servizio piuttosto che a loro, con la promessa di nuovi enormi territori da divindersi, con uomini e mezzi dei loro fedi impegnati duramente verso tale obiettivo, dandone il tempo e la stabilità interna necessarie perché lui e i suoi eredi consolidassero la loro presa sulla nazione. Se Hideyoshi intendeva fondare l'imperno perché ha puntato a un bersaglio grosso come la Cina e non ha piuttosto pensato a un obiettivo più realistico come solo la vicina Corea. Di certo l'ambizione e la sicurezza di Se Hideyoshi hanno giocato un ruolo importante nella sua decisione. Vi sono tuttavia anche delle motivazioni strategiche. Di fatto la Corea era solo un piccolo pezzo alla periferia dell'imperio cinese e conquistarla gli sarebbe costato parecchio in termini di uomini e risorse. Dopo di ciò avrebbe dovuto ricostruire la sua armata prima di attaccare un nuovo piccolo bersaglio altrove. In altre parole, se fosse riuscito ad arrivare rapidamente con le sue forze fino a Pechino, l'intero mondo che ruotava attorno ai Ming sarebbe caduto nelle sue mani. Di certo il piano di Hideyoshi di farsi strada fino alla Cina era ambizioso fino all'estremo, ma non folle come potrebbe sembrare un primo sguardo. Quando si riferisce ai cinesi come lunghe maniche, un'allusione alle effeminate tuniche degli ufficiali di corte inadatte al combattimento, la sua sprezzante derisione conteneva un nocciolo di verità. Sul finire del XVI secolo la Cina era debole e in un certo senso aspettava di essere rovesciata dalle superiori forze di un conquistatore. Le sue armate erano possenti solo sulle carte e nella realtà sarebbe stato difficile mettere insieme un esercito di centomila male armati e mal comandati uomini. Nella battaglia di Sao nel 1619 che segnò il declino dei Ming bastarono appena 60.000 guerrieri yurken per sconfiggere il numeroso esercito che Pechino aveva messo in campo. E non si avvicinava nemmeno a quello di cui disponeva i dei Yoshi dato che poteva radunare circa 250.000 uomini che poteva fornire di 10.000 moschetti di buona fattura e contare su esperti generali temprati dalla battaglia. Nel 1591 di fatto i dei Yoshi era in possesso delle più potente macchine militare che il mondo avesse mai visto. Nello stesso momento in Europa nemmeno i migliori eserciti avrebbero potuto misurarsi con le disciplinate armate di Alessandro di Grande e tale grado di potere militare non sarebbe stato raggiunto per almeno altri 20 o 30 anni. Il primo esercito moderno che non sarebbe stato sconfitto dalle armate di Alessandro Magno fu probabilmente quello di Gustavo Adolfo, re di Svezia del 1620 che è costretto a formare un esercito da una popolazione di un milione e mezzo di persone, per primo fece delle armi da fuoco il fulcro delle sue armate, il cui devastante impatto di fuoco rapido costrinse le altre nazioni a seguirne l'esempio alle svelte. Gustavo II Adolfo di Svezia, detto il Grande o il Leone del Nord 1594-1632, regno dal 1611 al 1632, riformò l'esercito svedese per fare fronte ai suoi nemici, diventando cruciale nella guerra dei trent'anni, grazie alle vittorie del suo esercito moderno e disciplinato e morendo sul campo di battaglia di Gluzze, Sassonia, contro le truppe imperiali dell'Esburgo. Per dare un riferimento, era un contemporaneo del cardinale Richelieu, 1585-1642. Egli dimezzò di fatto il peso dei moschetti e inventò la cartuccia a carica fissa con palla annessa e adottò la scarica simultanea detta salva, solo per citare un paio delle molte innovazioni che possono avere attinenza con il nostro argomento. Non riesco a trovare altri dati, ma nella battaglia di Breitenfeld del 1631, con 24.000 uomini, Gustavo Adolfo sconfisse l'esercito imperiale di Lesburgo, composto da 42.000 uomini. Stando ai dati degli storici, nello scontro decisivo contro Dario a Gaugamela nel 331 a.C., l'esercito di Alessandro i Grande era composto da 40.000 fanti e 7.000 cavalieri. Per contro, l'esercito persiano contava circa 100.000 uomini, tra cui 10.000 dei famosi immortali. Contro Hideyoshi, nemmeno la falange di Alessandro né alcun esercito europeo del XVI secolo avrebbero avuto possibilità. Difatti, quando il Taeko poteva inviare 250.000 uomini armati di migliaia di moschetti nel Kyushu nel 1517 e 158.000 uomini in Corea nel 1592, i maggiori eserciti dei singoli Stati europei, raramente raggiungevano i 50.000 uomini. Di fatto, l'esercito spagnolo ammontava in quel periodo a 60-65.000 soldati, con un breve picco di 86.000, mentre la Francia arrivò a contarne al massimo 50.000, e l'esercito inglese 20-30.000, e l'Olanda 20.000. Forse, Hideyoshi non era conoscenza nel dettaglio delle debolezze della Cina, come ad esempio del reale numero di truppe che poteva raccogliere, dato che almeno l'imperatore Ming e i suoi ministri ne avevano una chiara idea, eppure vi erano degli indizi circostanziali che potevano suggerirli, e che di certo non li hanno sfuggiti. Prima di tutto, la Cina dei Ming da molto tempo non riusciva a proteggere le sue coste dall'incorsione dei pirati Iwako, un misto di fuoriligi cinesi e giapponesi che operavano da basi del sud del Giappone e nelle isole al largo delle coste cinesi, che fin dalla fine del XV secolo, combinavano il contrabbando con saccheggi lungo le ricche regioni costiere della Cina meridionale e centrale, e la cui impunità suggeriva che la Cina non possedeva la potenza militare che si era solita attribuirle. Fino al 1550-1560 la miglior risposta di Pechino consisteva nello spostare persone e risorse nell'entroterra, lontano dalle coste minacciate. Un altro indizio era il fatto che durante l'epoca, Sengoku, il Giappone aveva smesso di mandare tributi alla corte cinese, ma non vi era stata alcuna rappresaglia né alcun tipo di impunizione. In realtà, la corte cinese si preoccupava molto poco del Giappone e per questo non fece troppo caso a cessare dei suoi tributi, ma Hideyoshi non poteva saperlo e ragionando a partire dal suo punto di vista, ovvero quello di un dittatore dal pugno di ferro, giudicò ciò come un segno di debolezza e di mancanza dei poteri nel tenere in riga i suoi stati tributari. Voleva dunque conquistare la Cina perché convinto di avere la forza per farlo. Avrebbe evitato disordini interni, conquistato nuove terre e arricchito se stesso e i suoi vassalli, dando anche alla nazione un nuovo obiettivo, ovvero un imparo asiatico.